Lo sciopero dei benzinai proclamato per il 25 e 26 gennaio prossimi è stato congelato dopo il chiarimento avuto dalle associazioni dei gestori durante l'incontro avuto oggi con il governo. Le sigle sindacali sottolineano che è stata ripristinata una verità inequivocabile. I gestori non hanno alcuna responsabilità per l'aumento dei prezzi e che lo sciopero è al momento congelato in attesa del decreto del governo sul tema. L'esecutivo dal canto suo assicura l'avvio di un confronto con il settore che inizierà con un tavolo tecnico martedì 17 gennaio. Siamo nella condizione di sentirci abbastanza soddisfatti. Non fosse altro che stato stabilito a breve di incontrarci di nuovo per far partire il tavolo tecnico emergenziale di settore che chiediamo da tema. È ripreso nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo il processo Open Arms che vede il segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini imputato per sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio nell'ambito della vicenda che nell'estate del 2019 quando era ministro dell'interno coinvolse la nave della ONG spagnola rimasta diversi giorni a largo delle coste siciliane in attesa di un porto dove approdare con 147 migranti a bordo. Ascoltato come testimone l'ex premier leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha detto Non ero d'accordo con lui e il clima era incandescente e ha ricordato di aver scritto due volte al ministro Salvini. La prima volta per dire che non si potevano respingere i minori, la seconda invece che c'erano sei paesi europei che avevano confermato la disponibilità alla redistribuzione dei migranti dell'Open Arms. L'europarlamentare Andrea Cozzolino lascia tutti i suoi incarichi in Unione Europea ed è pronto ad essere sentito nell'ambito dell'inchiesta Qatargate per ribadire la sua totale estraneità ai fatti e rispondere a tutte le domande. Lo comunicano gli avvocati dell'europarlamentare per cui è stata chiesta la revoca dell'immunità spiegando che alla fine di consentire la massima trasparenza e serenità dei lavori Cozzolino ha già comunicato le sue dimissioni dalla Commissione Pegasus e dalla Delegazione Maghreb. Mosca conquista a Soledar dopo l'assedio, questo l'annuncio del Ministero della Difesa russo che sostiene che la presa della città sia avvenuta ieri sera. Pronta la smentita di Kiev, stiamo combattendo. Secondo gli Stati Uniti, anche se la città di Bakhmut alla fine dovesse cadere in mano di Mosca, la circostanza non avrebbe impatto sul conflitto. Intanto, secondo l'intelligence militare ucraina, Putin intende mettere assieme un esercito di 2 milioni di uomini procedendo a ondate di parziale mobilitazione. I principali indicatori dell'andamento del Covid in Italia sono in calo. Secondo il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute relativo alla settimana 6-12 gennaio, si sono registrati 84.076 nuovi positivi, con una diminuzione del 38,2% rispetto alla settimana precedente. 576 morti rispetto ai 775 di 7 giorni prima. In miglioramento la situazione negli ospedali, dove il tasso di occupazione in terapia intensiva registra un lieve calo dal 3,2 al 3,1%. L'unica figlia di Aldis Presley, Elisa Marie, 54 anni, è morta nella sua casa in California dopo un attacco cardiaco. A dare l'annuncio della scomparsa della figlia di Elvis è stata la madre Priscilla. Nel 2020 aveva perso il figlio, morto suicida all'età di 27 anni. Martedì scorso aveva partecipato a Beverly Hills alla cerimonia dei Golden Globe, dove l'attore Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione del re del rock'n'roll nel film Elvis. Pochi giorni prima, l'8 gennaio, aveva celebrato a Graceland la villa di Elvis a Memphis, l'anniversario della nascita di suo padre. Grazie a tutti.